Chi vende armi domina il mondo, perché il mondo perde tempo ad usarle. Le armi sono tante, ma non sono quelle ad uccidere. Ad uccidere sono i proiettili, i proiettili sono tanti, anche le parole, i gesti, i numeri. Il potere di poter dire, il potere di poter fare, eseguire e fare fuori corpi e anime. Io voglio stare bene, io voglio stare bene, ho bisogno di un momento per trovare un po' di calma. E voglio stare bene, io voglio stare bene, è da tempo che mi sento in un mondo che mi incanna. E voglio stare bene, voglio sapere qual è il mio posto, il mio posto nel mondo. In questa fabbrica del degrado, il degrado culturale, domina la confusione. Perché confondere all'ordine del giorno, tutto vola veloce, veloce come un jet. Prima non c'era la televisione, oggi muoriamo tutti su internet. E non si guarda più il cielo, e non si ascolta più il vento. Eppure di cieli diventi, ce ne sono in abbondanza. Ma non riconosciamo più i battiti del cuore, e li confondiamo con il panico e l'ansia. Io voglio stare bene, io voglio stare bene, ho bisogno di un momento per trovare un po' di calma. E voglio stare bene, io voglio stare bene. E' da tempo che mi sento, in un mondo che mi incanna. E voglio stare bene, voglio sapere qual è il mio posto, il mio posto nel mondo. Io voglio stare bene, io voglio stare bene. Io voglio stare bene, voglio sapere qual è il mio posto, il mio posto nel mondo. Il mio posto nel mondo. Io voglio stare bene. Io voglio stare bene, voglio stare bene. Io voglio stare bene. Io voglio direction. E ai io voglio stare bene. Grazie a tutti.